frutta e verdura l'importanza di seguire la stagionalità rispettare la stagionalità di frutta e verdura è molto importante benvenuti nella rubrica questione di stili abbiamo visto che consumare almeno cinque porzioni tra frutta e verdura è una sana abitudine lo sapete invece perché è importante rispettare il più possibile la stagionalità e la territorialità di frutta e verdura innanzitutto perché ci permette di avere una dieta più varia ogni mese evitando di consumare sempre gli stessi alimenti per tutto l'anno altro motivo è che la frutta e gli ortaggi di stagione conservano maggiormente i benefici e le proprietà nutritive rispetto ai prodotti non di stagione inoltre hanno caratteristiche organolettiche che sono senza dubbio migliori un gusto più intenso un profumo avvolgente un aspetto più invitante infine non da ultimo spesso li troviamo ad un prezzo più vantaggioso in quanto sono prodotti che non necessitano di essere importati da lontano o coltivati in serre questo inoltre ci permette di rispettare maggiormente l'ambiente grazie grazie grazie